Gesù in questo Vangelo si parla di qualcosa che viene dall'alto, è lo Spirito Santo, per me del quale bisogna rinascere. Lo paragona al vento, nessuno sanno dove viene e dove va, come dire non è qualcosa di controllabile, ha una sua volontà, non dipende dai nostri sforzi, non possiamo fare nulla per ottenerlo, né controllarlo, né chiamarlo, non c'è nessun modo per obbligare Dio a qualche cosa perché è Lui che dona come, quando e a chi vuole. Lo Spirito Santo è un dono fatto agli uomini che viene ottenuto da Gesù, come dice proprio il brano del Vangelo di oggi, dopo che il figlio dell'uomo appunto è stato innalzato sulla croce, con questo innalzamento egli paga il peccato degli uomini e toglie un grande ostacolo. È l'ostacolo che impedisce di ottenere questo dono di Dio che è lo Spirito Santo. Di che cosa parla lo Spirito Santo? Che cosa ci porta? Non è un potenziamento delle nostre capacità, delle nostre potenzialità umane, cosa che molti nella cultura di oggi, ma il discorso è molto antico, in realtà cercano. Queste ricerche di poteri, energie, potenzialità della mente, entrare in un'altra dimensione, entrare in una dimensione superiore, tutto questo non ha nulla a che fare con la realtà dello Spirito Santo, proprio perché è inafferrabile, ingestibile, incontrollabile, perché non è nelle nostre mani. Siamo noi nelle mani di Dio. Mentre invece lo Spirito Santo è il dono fatto a chi volontariamente si dona a Dio e Dio dunque lo porta nella sua dimensione. Questo trasporto avviene per mezzo di una infusione dello Spirito che modifica il nostro stato spirituale. E questo, sempre perché è stato tolto dalla grande barriera per peccato, cioè c'è stata la purificazione o santificazione, questo avviene in modo tale per cui l'uomo, con lo Spirito di Dio già qui sulla Terra, possiede quell'aggancio e quella comunicazione con Dio che gli permette di essere con Lui per mezzo di Cristo, pur essendo qui sulla Terra. È un tempo di attesa. I doni dello Spirito Santo fanno sì che noi pensiamo e agiamo secondo quello che Dio indica e guida e non secondo i ragionamenti umani, le logiche umane, i poteri umani, perché il mio regno non è di questo mondo, dice Gesù. E le mie vie sono diverse dalle vostre vie. Quindi bisogna ribadire questa forte differenza fra quello che è il mondo di Dio, il terzo cielo, direbbe San Paolo, e i nostri cieli, i nostri orizzonti, la nostra vita sulla Terra, quindi anche le nostre facoltà, le nostre capacità, per quanto sia un'immagine di Dio con l'intelletto, se non vengono riempite di questo Spirito, rimangono attive per quello che riguarda le cose che sono qui sulla Terra. A noi dunque è data la possibilità già adesso di entrare in un'altra dimensione che è quella dell'eternità, che è quella dello Spirito di Dio, che è quella della comunione con Lui. Non è il mondo della possibilità del movimento fuori da Dio, dell'esaltazione dell'ego e di quelli che sono dimensioni non terrene spirituali ma basse, potremmo dire, fatte ancora di mondi creaturali, i spiriti creati che possono essere quelli ribelli come i demoni o altro. Qui si tratta di entrare nella dimensione di Dio che sta al di sopra di tutto quello che è creato, sia visibile che invisibile. E questo accesso ci è dato da Cristo che ci permette di entrare in questo mondo lasciando che noi facciamo entrare il suo Spirito dentro il nostro cuore, cioè dentro la nostra parte spirituale. Tutto questo non per nostra volontà ma per dono di Dio. Non a nostro comando ma a disposizione di Dio. Noi siamo servi inutili e riceviamo questo dono quando Lui crede, quando le condizioni nostre basilari sono state soddisfatte. Abbandono del peccato, ricerca di Dio e della sua volontà e dunque adesione alla sua volontà mediante il suo Spirito. Dio vi benedica.